Eccoci ragazzi, telegiornale direttamente dalla Pausa Pranzo, allora è arrivata l'ultima ora, la decisione è stata presa, Gonzalo Higuain squalificato per due giornate, quindi salterà purtroppo, lo sapevamo, la Lazio per il cartellino rosso ricevuto e per le proteste successive salterà poi la gara interna contro il Parma. Sicuramente è una decisione di media entità, diciamo non è gravissima la squalifica, potevamo aspettarci anche dalle 3 alle 4 giornate, però diciamo che è andata abbastanza bene, dai, due giornate, ne faremo a meno sicuramente con Lazio e Parma, abbiamo giocato già senza Gonzalo quest'anno contro il Sassuolo, abbiamo vinto 4 a 1, speriamo bene. Ragazzi scrivetemi qui sotto nei commenti voi come l'ha pensata su questa squalifica dunque di soltanto due giornate, se è andata bene, se è andata male, è stato giusto così, la vostra opinione mi interessa molto, quindi noi ci vediamo nel prossimo video ragazzi, ricordatevi di lasciare un bel pollicione all'insù e di condividere questo video, ciao ciao belli!